Alcune ore fa la sorella di Belen ha espresso la sua opinione sul cedimento emotivo del suo ex fidanzato a casa Signorini. Uno dei concorrenti della terza edizione del reality show Grande Fratello Vip continua ad essere al centro del gossip. Stiamo parlando di Francesco Monte, che alcuni giorni fa si è lasciato andare alla commozione dopo aver visto le foto della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser sulle pareti della casa vicine città. Alcune ore fa la sorella di Belen è stata ospitata nella trasmissione Casa Signorini insieme al fidanzato, al fratello Gerenias, e ad altri personaggi dello spettacolo. In questa occasione la modella argentina ha espresso la sua opinione sulle lacrime dell'attore Tarantino per la fine della loro storia d'amore. Francesco Monte su Cecilia Rodriguez, non l'amo più. La scorsa settimana Francesco Monte si è ritrovato a fare i conti con i dolori del passato. In particolare l'attore Tarantino dopo aver ripensato alla sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez si è sfogato con Walter Nudo e Andrea Mainardi. Nel corso della terza puntata del reality invece l'extromista ha rivisto nuovamente delle fotografie della sorella di Belen nella Mystery Room. In tale circostanza il modello pugliese ha ribadito di soffrire ancora per la fine della storia d'amore con la showgirl argentina terminata un anno fa proprio nella casa di Cinecittà. Il 28enne però ha risposto ad una domanda dell'opinionista Alfonso Signorini dicendogli di non provare più nessun sentimento nei confronti di Cecilia con queste seguenti parole, non l'amo più. Non c'era nulla da chiarire con lei. Inoltre Francesco ha dimostrato di aver voltato pagina dicendo alla conduttrice Ilari che incontrare la fidanzata di Ignazio Moser dietro la porta rossa non gli farebbe nessun effetto. La sorella di Belen parla del suo ex fidanzato a Casa Signorini. Questo pomeriggio Cecilia Rodriguez è stata tra gli ospiti di Casa Signorini, la web serie ideata da Alfonso Signorini. Insieme alla modella argentina nel salotto erano presenti il fidanzato Ignazio Moser, il fratello Gerenice, l'ex tronista Ludovico Valle, e l'ex naufrago Marco Ferri. La sorella di Belen per evitare inutili pettegolezze ha commentato il cedimento emotivo di Francesco Monte al GFD. La sudamericana dopo aver detto di non essere indifferente alle lacrime del ragazzo Tarantino, ha precisato che lei adesso ha la sua vita e porta rispetto al suo fidanzato Ignazio Moser. Sempre nel corso dell'intervista Cecilia ha dichiarato di non pensare che l'ex tronista sia ancora innamorato di lei, e per finire gli ha augurato di trovare una bella persona con cui possa condividere la sua vita. Riguardo ad un suo probabile ingresso nella casa più spiata d'Italia come ospite la Rodriguez ha detto di aver rifiutato l'indito degli autori del reality perché a Francesco ha già detto tutto sia in televisione che in privato. Grazie a tutti.